Mi scusi per prima, ma dovevamo provocare una reazione. E c'è stata. Non la posso guardare negli occhi ormai. Io vorrei che mio marito mi dicesse la verità. Sì, lei si sentirebbe meglio e sua moglie come? Devastata, tradita, con il cuore spezzato. Vuole davvero farle questo? No. Ma non posso vivere così. Sua moglie sì. Siamo pronti. Ora stia tranquilla e cerchi di rilassarsi. Guardi la luce.